se siete qui è perché siete stati individuati dall'agenzia perché non vi piacciono le ingiustizie per ogni guerra per ogni attentato per ogni carestia c'è un sistema che l'ha voluto noi siamo nati per opporci a tutto questo che devo fare usatemi come ti farai assumere da loro diventerai uno di loro ma restarei una di noi ci sei noi siamo citadel cosa è in your head Grazie a tutti